Presidente, ma c'è una domanda. Presidente Marsilio, Americo Gizzi, Ortona Notizia. Mi viene dalle cittadine, mentre lei parlava è arrivato un messaggio. Possiamo dare una tempistica possibilmente veritiera dei lavori? Una tempistica veritiera ve la dà l'autorità di sistema portuale che ha la competenza principale su tutte queste attività di lavori. Quindi è stata presentata oggi una tabella, un cronoprogramma, i cronoprogrammi sono approvati, hanno delle scadenze che devono essere rispettate. Poi certo, a cantiere aperto la sorpresa archeologica piuttosto, adesso che si fa il dragaggio, vediamo quanti ordini militari verranno individuati, alcuni sono stati già individuati. È chiaro che i tempi di lavoro si risentono anche delle condizioni concrete in cui questo avviene. Però credo appunto che ormai ci siamo, che dopo tanti anni di chiacchiere adesso parliamo di cantiere e di lavori che si svolgono. Grazie mille Presidente. Grazie mille Presidente. Grazie mille Presidente. Grazie mille Presidente.